Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi siamo qui ancora con Battlefield Hardline e siamo con l'episodio 1, andiamo! Ah ti fanno tipo una sorta di riassunto di quello che hai fatto? Questo evento apparentemente legato al traffico di droga a Mayette, siamo in diretta dal centro in esclusiva per Sky 5 con il capitano Julian Doze che si occupa delle indagini. Le indagini sono ancora in corso. Il capitano No Comet? Le indagini sono ancora in corso, questa è la mia dichiarazione, altrimenti avrei detto No Comet. Dove cazzo sono tutti quanti? La guerra della droga signore, è in tv, come negli anni 80, magari domani metto il vestito di lino bianco. Meglio una maglietta rosa. Nel frattempo Stoddard, hai un incarico speciale. Detective Mendoza è down, è il mio ufficio. Li conoscete voi due? Più o meno. Bene, d'ora in poi sarete partner, sedetevi. Mendoza, oggi è confiscato parecchi chili di cocaina, complimenti. Allora dimmi perché la coca viene marchiata. Marchio di fabbrica, dimostra che arriva non tagliata. Esatto. E la tua coca aveva un marchio che non conoscevamo. Il tizio che hai arrestato dice che l'ha avuta da Tyson Latchford, con cui il detective Dow ha avuto dei trascorsi. Portatelo dentro per una chiacchierata. Signore, l'ultima operazione sul campo di Mendoza, senza offesa, è stata una merdata. Insieme farete grandi cose. Potete andare. Per la cronaca in quella stanza stavo seguendo le istruzioni di Stoddard. Certo, non ne dubito. Ma non cercare scuse. Non cerco scuse. Puntualezza. Com'è la storia con Tyson Latchford? Vende coca ai ricchi e agli idioti. Quei tizi che hai beccato non erano niente in confronto a Tyson. Però a volte fa arrivare qualche regalino ai suoi vecchi amici. Allora troviamone uno. Mi hai letto nel pensiero? Ascolta, fai molta attenzione stanotte. Questa faccenda non è uno scherzo. Lo so, credimi. Ho perso due amici in sei mesi. Due agenti. Sì, mi è giunta voce. Mi spiace. Anche a me. Miami è piena di merda. Beh, spalare merda è il nostro lavoro, no? Stoddard me l'aveva detto. Ha detto cosa? Che adori fare il poliziotto. Ehi, agente, agente. Ehi, hai una brezza a poco. Ah, cazzo, ma guardalo. Ehi, non bagnarmi il vetro. Ehi. Va bene, va bene. Ti va, ti va di. Mi senti, dammi cinque minuti. Ok? Lo so, lo so, lo so. È solo che io sono un imprenditore, capisci? Spiacente, non quando sono in servizio. Ok. Ok, va bene. Beh, agente, proteggi il quartiere. Fai attenzione, tesi. Stronzo! Sai, il quartiere in cui sono cresciuto non è molto lontano da qui. Davvero? Dalle stalle alle stelle. Fammi indovinare. Sei di South Beach? No. Figurati. Di Los Angeles. Orange County. Oh. Dalle stelle alle stelle, eh? Già. Così sembra. Che succede? Sarà una retata. Ehi, ehi, non do il mio consenso. Non mi serve il tuo consenso, idiota. Basta il sospetto di reato. Ehi, Guzman, chi hai beccato? Il nostro amico Huggs. L'ho beccato col baule pieno di hotshot. Stai giù! Huggs, dov'è il tuo amico Tapp? Non lo so. State cercando Tapp? Sì. L'hai visto? Ah, ma ho visto il suo amichetto Briggs e altre della banda di Tapp sulla dodicesima. Grazie, Guzman. A buon rendere. Ben fatto. Quindi sei cresciuto qui, ma non sei nato a Miami, giusto? No. Alla Havana. Sul serio? Come te ne sei andato? Con mia madre. Una con le palle. E tuo padre? Non lo so. Saranno vent'anni che non lo vedo. Stavamo scappando da lui. Vive ancora a Cuba? Probabilmente è morto. Cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Doveva essere un vero signore. Oh, non c'è dubbio. E hanno rifiutato l'inunzione restrittiva. Perché non avevo la ricevuta? Cioè, come cazzo faccio ad avere la ricevuta di consegna? Perché sono dove abitavo. Cazzo! Fottiti. Ehi, calma. Ok. Signora, tutto bene? Il coperchio non si chiude. Buona fortuna, allora. Vaffanculo. Vuoi che chieda rinforzi, Mendoza? Probabilmente il comando manderebbe all'artiglieria pesante. Forza. Ci facciamo un giro e spaventiamo tutto il quartiere. V13, scendiamo dal veicolo. L'accesso alle case popolari è bloccato. C'è solo un'uscita. Trova Briggs. Ok. Sono anche chi sia sto Briggs, però. Il tipo che cerchiamo di solito bazzica nei paraggi. Oh, guarda la strada prima di attraversare, imbecile. Questo mi fa palestra all'aperto. Micchio. Quanto si cammina in sto gioco? Mamma mia. Quindi? Sì, ma manco da parecchio. Ti seguo. Amico, posto. Guarda che morti di figa come mi guardano. Non costringermi a controllarti le tasche. Ruben, tienilo sotto controllo. E metti via questo. No, è un sacchetto. E niente, è un sacchetto. E niente, non è. Ma cammino, guarda. No, ora cammina strano. Dai, decidi ti a muovere. Hai un appuntamento per caro. Ecco Briggs. Attento, Mendoza. Dov'è Briggs? È imprevedibile. Vado, vado. Bella macchina. Voglio. Vai prima tu. Quello mi conosce. Visto? Visto? Sapete che c'è? Ce la possiamo fare. Allora, mostra il tuo distintivo per bloccare un sospetto. Con L1. Tegli all'arma appuntata sul sospetto per mantenerlo in controllo. O l'indicatore di allerta diventerà rosso. Ok. Dalve. Polizia di Miami. Abbiamo qualche domanda. Come lo interno. Ehi, detective. Chi è questo? Il mio nuovo partner, Briggs. Vogliamo giocare ai polizziati. Se ti muovi ti faccio saltare la testa. Tuo amico Tapp, dove sta? Foti di bello. Ok, ci preferisci cattivissimi. Avanti, Nick. Arrestami. Bene. Allora. E giù. Adesso. Forza, dimmi dove è Tapp. Così ce ne andiamo. Se, se viene proteggere un cazzo. Stasera se ne sta sul divano, ok? Bene, non mi serve altro. Avanti, Mendoza. La cosa non finisce qui. Conosco i miei diritti. Lasciamo qua così, proprio. Ah, veramente? Lasciamo qua così. Ok, andiamo. Ah, si può correre adesso. Che ci fosse. Andiamo. Il divano di Tapp si trova da sola. Potrebbe non rimanere lì all'ultimo. Ah, merda. Sono gli uomini di Tapp. Non devono scoprirci. Seguimi. Quindi qua c'è un po' di stealth. Dobbiamo farci beccare. Livello di allerte. Livello di allerte dei sospetti rappresentato in due modi. Un indicatore di allerte che si riempie gradualmente ad indicare la pericolosità dei sospetti. Ah, ok. Come è, tipo in Far Cry. Dei coni visivi sulla minimappa che... Vabbè, ok. Ah, abbiamo anche il loro campo visivo, vediamo. Da. Questa cosa deve restare fra noi due. D'accordo? Quale cosa, detective? Bravo, ragazzo. Ok, andiamo. Ok. Ci penso io. Passa, forza. Grazie, molto gentile. Comunque scusa per quel commento del carso. Non doveva essere una bella situazione. Ma tu te la sei cavata. Comunque cosa mi dici di Stoddard? Non abbiamo lavorato molto insieme. Stoddard è un elefante. E il mondo è la sua cristalleria. Palla, si cammina solo in questo gioco. Ok, c'è l'indicatore della vita, delle armi, quindi probabilmente... Ma si spara. Giusto. Ok, c'è due cazzo. Potevo modificare un po' di luminosità, perché è veramente troppo... Anzi, lo faccio un attimo. Così. Lancio qualcosa per distrarlo. Lancio qualcosa. Ah. Lancio un bossolo per deviare l'attivizzazione di un criminale e fare in modo che non ti vedi. Sono un nemico e la volta ira girare un lancio di un bossolo. Ah, ok, devo schiacciare... Delect. Delect. E ora che si è rotto? Daryl? È come se qualcosa fosse caduto dal tempo. Se qualcosa si rompe, me ne resto da mia sorella. Se si rompe, l'aggiusto io. Sono un nemico e la volta ira girare al lancio di un bossolo. Lancio un bossolo per dividere un gruppo di criminali. Ok. Ok. Sì, ci provo. Ah, bene. C'è qualcosa qua. Eh, quello devo fare fuori dei due. Qua. Vieni qua, bello. Vieni qua. Non, 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 no. Ok. Ok. Ci possono per chiusire, no? Il nostro uomo dovrebbe essere qui. Due o tre milioni di acqua, c'era questo tale Xe. Buonasera, Tapp. Non scappare, ti inseguirei. Stiamo cercando Tyson. Sei il suo nuovo partner? Ti ha fatto già qualche mossa di karate? Io studio Krav Maga e il karate è una stronzata mistica. Sei forte, lo sai. Tapp e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianche a cui piaceva il quartiere. Tapp è rimasto. Alza, Fissu, mani sopra la testa. Ehi, Tapp, dov'è Tyson? Tutti stanno cercando Tyson. Hai visto i notiziari? Sì, se ne sta al sicuro. Questo non è certo un buon momento per mettersi in mostra. Già, speravamo tu potessi dirci qualcosa riguardo. Non mi pagano abbastanza, Fidel. Nick, ammanettalo. Guarda, non vedevo l'ora. Secondo me, voi sbirrivi e citate così, eh? All'inizio sì, poi diventa ripetitivo. Tapp. Sono sconvolto, Nico. Ehi, me l'ha prescritto il medico. So che sei il ricercato, che tieni la tua coca dietro l'angolo, sotto il cassonetto. So che il ragazzino che è scappato, probabilmente adesso la sta spostando e so che è troppo piccolo per queste stronzate. Per cui sì. Se dobbiamo arrestarti per possesso, lo faremo. Che cosa volete che faccia? Che cosa volete che faccia?